Il concerto di Lodi Battaglia e dei Palasport ha concluso la settimana di festeggiamenti nella frazione di tre mensuoli di Minturno. La festa in onore del santo protettore San Di Candro Martire ha visto come tutti gli anni una forte presenza di cittadini emigrati che tornano al paese natale quasi per onorare la promessa di amore con il santo padrono. Nel corso della settimana i festeggiamenti hanno visto tornei di calcetto per grandi e piccini, memorial, presentazioni di libri dedicati al territorio e sagre con tanta musica e piatti tipici. Appuntamento quindi al prossimo anno per rinnovare insieme al comitato che in questa edizione si è riscoperto particolarmente unito la propria devozione a San Di Candro.